Sono molto soddisfatto, però io lo sapete sono pragmatico, non mi lascio trasportare dagli entusiasmi. È una buona partita, però una rondine non fa primavera. I ragazzi hanno capito, spero, il mio messaggio che è quello di cercare di entusiasmare i tifosi. Noi dobbiamo adesso, in questo momento, noi siamo quelli che devono riportare la gente a sognare. Per cui stasera hanno fatto una gran partita, adesso ci aspetta un'altra difficilissima partita contro un'Atalanta spettacolare. Passo dopo passo, io conosco soltanto una medicina, il lavoro, la serietà, la volontà di buttare ogni volta, come si diceva, il cuore oltre l'ostacolo. Ecco, a me quando i giocatori danno tutto, poi accetto anche la sconfitta. Perdere stasera mi dispiaceva perché i ragazzi hanno fatto veramente una partita gagliarda, dura, tosta, contro una signora squadra. Perché lì c'era gente che ha una velocità, ha una resistenza per fare questi scatti pazzesca. E mi ha sorpreso, la Roma mi ha sorpreso perché io dico, chissà se il secondo tempo teniamo. E invece il secondo tempo siamo andati addirittura meglio. Per cui questa è una squadra che ha tanto dentro e deve ritrovare la fiducia, l'autostima, perché quando stai così perdi tutto. E allora non giochi con quella spensieratezza che invece bisogna avere. Io mi auguro che questa partita faccia capire ai ragazzi che sì, ci siamo e possiamo dire la nostra anche quest'anno.